Per questo Mark Comedy Record mi sto preparando da più di 5 mesi, sia a livello fisico affrontando delle durissime sessioni di allenamento con più di un istruttore. Sto seguendo anche una dieta per riportare il mio fisico in forma smagliante e perfetta per affrontare queste 12 ore di fila di spettacolo. Ma sto seguendo anche una preparazione psicofisica perché sono sicuro che arrivato a un certo punto la mente rischia di lasciarmi e quindi è importante essere concentrati e arrivare fino alla fine del mio obiettivo, del mio Mark Comedy Record. Grazie a tutti.